Sono tornati finalmente visibili in tutto il loro splendore, è il caso di dirlo anche se è un termine forse abusato, quattro dei lati del battistero dopo il restauro che ha interessato sia il rivestimento marmoreo, la splendida tomba di Donatello dell'antipapa Giovanni XXIII e i mosaici a partire da quelli del tamburo per arrivare fino a quelli del parapeto del matroneo. Si tratta dell'ultimo ciclo musivo del battistero, l'impresa cominciò dalla cupola, un'impresa grandiosa e poi avendo preso gli artisti fiorentini, mano e abilità in questa tecnica difficile, si decise di proseguire anche sulle pareti, rivestendo zone marmore che all'inizio non erano previste per ricevere i mosaici. Mosaici che ora sono stati liberati da passati restauri, ormai superati o dannosi, ripuliti, integrati secondo le moderne tecniche del restauro e tornano quindi a parlarci di una bellezza che troverà a breve tutto il suo ciclo completo con il restauro ora in corso delle altre tre pareti e quello della zona psidale della scarsella che partirà a breve. Siamo giunti a metà dell'opera che si concluderà entro l'anno e sono veramente soddisfatto perché l'Opera Santa Maria del Fiore, con questo intervento, con questo restauro, è riuscito a portare avanti quello del primo impegno statutario, cioè quello della manutenzione e della valorizzazione dei propri monumenti. Questo grazie anche all'abnegazione e alla bravura dei suoi dipendenti che si sono dati da fare nonostante le difficoltà causate dal Covid.